Cima della rosetta. Ah, hai studiato oggi. È la gita della domenica, passeggiata. Balgerola vertical, giusto due. Rosetta Skyrace. Cima della rosetta, due ore di qua. Su per il bosco, manca una grignetta. Qualcuno dissente perché le ho promesso aperitivo sul lago. In realtà è andata così. Andavamo verso il lago. Ho visto che l'unico punto che aveva il sole era proprio la rosetta. Ho detto perché non fare la rosetta oggi? Allora andiamo su dalla vertical. Io ho caldo. Eccola la rosetta con la croce. Il bar bianco. Dopo ci finiamo a bere il caffettino. Mio Dio. Se vuole salire fino a qua è macchina. Eccola che la sbuca la rosetta. Ma non è bello qua, dai. Ficcogata. Direttissima. Salamona è messo per la direttina fresca, eccola la! Non ricordo il nome, però vediamo la rosetta, si vede tutta la valstellina, qualcuno batte la fiaccola oggi, sono tutti puliti adesso, eccola, bella che rododendrifricio, quanti rododendri, ma che carino che sei, bella che salto, bellissimo, andiamo su alla Cruz, una rosetta, bella! andiamo su, scima della rotetta, ecco la Serena, e ecco la nostra ruina considerazioni sulla verticale, carina, adesso scendiamo dalla normale, saluta la rosetta, ciao rosetta! no, il signore è di là, ecco la di giù, verso il pal bianco per il caffè, il lago colino, culino, ma com'è che è? alpe colino, lago colino, abbiamo tempo, ma finchè tiene un po' il meteo, no, ed ecco c'era dal peculino, ed ecco ce l'abbiamo fatta a catturare una marmotta, ciao marmotta sentiero ornitologico Walter Corti, baita venna sono tutta non vanno a vedere le reghe piccole, le musche lo rifugio che oggi stavano a cima della rosetta due ore dieci, e due ore dieci sono state Grazie a tutti.